Nella puntata precedente Adesso andiamo a svegliare gli altri Come è andata la notte? Bene, bene Papa Mario ha comprato la casa più bella Siamo pronti Vestiti da vela La merda del piccione che è entrato Si vede? Mamma mia Ragazzi Se stasera il Liverpool passa Ci facciamo il bagno alle 3 di notte Siamo disfatti Non per la giornata Ma per aver perso una scommessa E cosa ci devo fare qua? E lo prendi con le manine Scusa, quale sono? 7.40 qualcosa Il cavallo stavrebbe a prendere qui i capelli Giorno 3 Inizia con un insetto grande così Comunque si inizia a sentire la stanchezza La sveglia si sente con più difficoltà Non si sente proprio Sempre giorno 2 Di prima mattina andiamo a buttare la spazzatura E poi andiamo a lavarci La faccia Abbiamo finito la colazione Stiamo andando a cagare Rotolo nuovo Così ci parliamo mentre cagliamo No, così devi passi la carta celica Ok Primo pranzo Primo Unico pranzo Pasta buona Questa? Voto 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 Perché è calda 8 Siamo arrivati alla frutta Eccellente Mela marcia Aspetta No, non marcia Muffita Perché la mela marcia non cade mai Non cade dall'albero Vermiciatta No, non erano Guarda la vela mentre lo fai 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 Buona Per te Cos'è che hai detto? Ma io non ripeto Dammi il voto Sette Sette Buona, buona Un bello commento Te Faccio io Raga, sembra un film Nella prossima puntata Videovlog Delle ore Ancora giorno 3 Aspetta che c'è il dito davanti Siamo già giorno 4 Siamo al giorno 4 1.20 17 Ciao Ciao Siamo al giorno 4 Siamo al giorno 4 Grazie a tutti